è sempre stata per i fanesi e non solo una delle manifestazioni più amate di fine estate è un po come d'inverno l'epifania che tutte le feste porta via con la festa dei fiori dall'estate siamo fuori giochi di parole a parte questo evento che notoriamente sempre stato di tre giorni da tre edizioni a questa parte ha cambiato pelle per una seppur frequentatissima bellissima mostra mercato è diventato un vero e proprio evento che coinvolge non solo l'area dove si svolge ma tutto il centro storico diventando fano fiorisce coinvolgendo i commercianti residenti e degli espositori per una settimana intera con il clou della manifestazione naturalmente nel fine settimana con gli espositori che portano il loro meglio delle produzioni è in una locazione diversa in quanto a seguito dei diciamo dei lavori al pincio abbiamo trovato un nuovo posto sono i giardini di fronte alla rocca ci saranno gli operatori florovivaisti i produttori agricoli e tutti gli eventi annessi alla festa di fiori tengo a precisare anche la data la domenica 23 settembre presenteremo alla città il programma come ho detto prima ricco di eventi mentre le giornate di 28 29 28 29 30 settembre saranno dedicato alla vera alla mostra dei fiori quest'anno si è voluto spingere su un connubio quanto mai felice ovvero sia l'arte e i fiori quindi vi siete dati un una motivazione in più questa assolutamente sì perché perché l'arte e i fiori diciamo si sposano sicuramente si sposano e questo connubio lo si vedrà in particolar modo nella mostra di arte contemporanea che abbiamo presentato al foyer e poi diciamo anche con la giocoleria per le strade tutto questo si vedrà e diciamo da domenica 23 a domenica 28 arte e fiori quindi passando per i laboratori per grandi e piccini e la memoteca che fa da grande contenitore di attività didattiche per un sempre maggior coinvolgimento dal basso delle giovani generazioni per una maggior sensibilità al verde 50 fioriere predisposte nel cardo decumano della città quindi un chilometro verde di ossigeno e dove insieme agli altri vivaisti abbiamo voluto dare proprio la percezione delle piante e del vivere le piante nel contesto urbano da vicino cioè dare proprio la sensazione dell'importanza delle piante naturalmente non poteva mancare il cibo con il coinvolgimento di due noti ristoratori locali che hanno messo a punto una cena per mercoledì 26 con ricette contenenti fiori commestibili quest'anno quindi oltre ai colori va in scena una vera e propria festa una festa che dura già iniziata tre anni fa e abbiamo sempre fatto di tutto per sostenerla e tra l'altro ricordo sempre che rilacciandomi il discorso dei fiori che il nostro nonno mimmo l'erborista curava con le erbe da questa settimana credo proprio da domani sono vero saranno installati anche in città in alcuni punti dei totem pubblicitari dove potete ritrovare ugualmente il programma e che dire viva fano viva la festa i fiori